È stata una partita che io temevo molto perché poi sapevo di queste qualità che ha il Pescara, che ha in base alle qualità dei propri calciatori, ma che poi il suo allenatore Zeman sa ancora di più caricarci sopra perché quando attaccano gli spazi in taglio, quando hanno queste vampate, queste ripartenze cattive per attaccare gli spazi, l'ha visto la Juventus, l'ha visto il Milan, cioè gli ultimi tre risultati, aveva fatto due pareggi e una sconfitta con la Juventus, per cui si vede che fa il Crotone, si vede che fa l'Empoli, non sono risultati scontati. C'è il rischio di prenderla un pochettino alla leggera, invece hanno fatto molto bene, sono fatti trovati pronti sotto l'aspetto fisico, avevano preparato bene la partita, avevano preparato bene il vantaggio, poi in due o tre situazioni ci è andato a finire male, ma complessivamente è stata fatta una grande partita, ecco gli ho fatto complimenti all'interno dello spogliatoio, a parte che su 4-0 hanno un pochettino alleggerito poi da un punto di vista di lotta, da un punto di vista di aggressività, ma è una cosa anche normale, perché poi il Pescara ha spinto ancora più forte, noi ci sentivamo ormai al sicuro, per cui è venuto fuori, abbiamo preso gol, del quale non mi trovo molto soddisfatto, il fatto di prendere gol, però l'abbiamo preso e sta finita.